Mica abbiamo finito eh? Allora, perché gli egizi non avevano una grande considerazione Rinaldo per il cervello, l'abbiamo parlato tante volte, l'organo più importante per loro era il cuore e però dopo, soprattutto dopo l'abbandono del doppio, dell'anima, dell'uscita dell'anima dal corpo, diciamo così in maniera più moderna. Intanto ultimamente sui giornali quotidiani è uscito questo problema della pesata dell'anima che pesa 23 grammi. Saranno matti? questi, questi scienziati saranno allucinati? Si sono bevuti qualche bicchiere di whisky in più oppure, oppure questa pesata dell'anima c'è stata? C'è. Ma io conosco sta cosa ormai da 30 anni, non è da oggi, perché hanno fatto delle sperimentazioni mettendo un disgraziato che era su un lettino, l'hanno pesato 10 minuti, 12 minuti prima della morte e dopo. E tutti i risultati scientificamente incontestabili risultano dai 20 ai 23 grammi. ci hanno fatto un film. Eh? Ci hanno fatto un film. Eh, appunto. Quali erano gli organi che sicuramente per gli antichi egizi rappresentavano qualcosa? Polmoni, stomaco, intestino e fegato. che venivano espiantati e messi nei vasi canopi. I vasi canopi erano dei vasi di alabastrio, venivano lavati, ripuliti questi organi e conservati dentro questi vasi in una soluzione di nitron, di sale, eccetera. Però non dovevano potre fare. E questi quattro organi erano l'elemento quadernario, visibile della vita. Perché? Perché ciascun organo era associato a una divinità che erano poi i quattro figli di Orus, che era poi il figlio di Osiride, che era poi Osiride il fratello di Sette, con il quale ci siamo stati dei problemi, perché c'è stato l'innamoramento di Osiride per non solo Iside, ma anche per Nefti, la gemella di Osiride. E ecco come è nato il conflitto tra Osiride, il fratello e il suo gemello, Sette, che si sono scannati fino all'ultimo minuto. E guardate che questa è una cosa veramente buffa, no? Queste divinità che sono al massimo della generazione divina, hanno avuto questo problema. Cioè Osiride, figlio della dea Nut, che era stata inseminata da Geb, la terra, però questa unione è stata messa in difficoltà da Shularia, che era geloso del collegamento dalla terra al cielo. Ma anche noi siamo il frutto di questo conflitto da terra al cielo, l'uomo. L'uomo è quello che ha dovuto pagare di questa gelosia, tra l'altro il basso. Ma questi egizi sono stati veramente bravi, guardate, teologi fini, sottili, ma perché a monte, sopra alla dea Nut, che poi rappresenta il cielo, con questo corpo pieno di stelle, il sole che la sera viene divorato dalla dea Nut, viene digerito tutta la notte, dopo viene ripartonato al mattino, rinnovato. È quello che avviene nella cosiddetta rigenerazione del corpo fisico, della reincarnazione, cosiddetta reincarnazione, ma del ritorno sul piano fisico. Gli egizi credevano che la vita non finiva dopo che le cellule ognuna se ne è andata per conto suo, quindi dice adesso basta, ce ne andiamo. Ma questa entità che governa questo popolo di cellule, che non riesce più a governarle perché in realtà il programma di lavoro è finito. Pensate su un vostro caso, voi avete un lavoro da compiere, da fare, lo programmate, lo portate in esecuzione nella miglior modo, però arriva un punto che il lavoro è compiuto e c'è un istante quasi di morte, non sai che fare, non sai, è adesso, è adesso. E questo punto avviene, e io ve lo voglio lamentare, vi ricordate quando avete dato gli esami di diploma o all'università di laurea? Che succede? Nel momento esatto in cui si viene dichiarati, io ti dichiaro il nome della Repubblica italiana, dottore, oppure il diploma, vede i quadri, promosso, eccetera. C'è un momento di disorientamento, di vuoto. E adesso che devo fare? E adesso che cosa succede? Quando il trapassato, o il defunto cosiddetto, oppure il ridato, perché così è, morire, memento oriri. Questa parola nasce da una composizione tra la parola memento, cioè ricorda oriri che nasce. Giusto? Sapevate, sì? Beh, queste riflessioni vanno fatte e per gli egizi era diventato un elemento importante, essenziale della loro religiosità. Non ho detto religione, eh? Religiosità. Perché non è vero che il cittadino comune egiziano fosse così religioso, perché ogni atto della sua esistenza era improntato a un rapporto quasi fisico con la divinità. C'era la decima, cioè il tuo lavoro che facevi ogni giorno, c'era la parte che dovevi lasciare al tempio, c'era il lavaggio del proprio corpo fisico cinque volte al giorno, perché il culto che era dovuto alla divinità non si doveva esercitare con un corpo maleodorante, perché le divinità non gradiscono gli odori sgradevoli. Cinque volte al giorno l'egiziano medio aveva a disposizione un bel lago, se voi andate a Karnak, che è, diciamo, ancora in piedi questo complesso monumentale, meraviglioso, e c'è il lago della purificazione. Andavano lì, piegavano la loro veste di lino, che doveva essere di... a quell'epoca le fibre artificiali non c'erano fortunati o di cotone o di lino, o di bisso, i più ricchi. Il bisso è quel filato, quel filamento che producono certe bongole, certe... ancora c'è in Sardegna chi lo produce, il bisso, ma... dei filamenti che vengono prodotti dalle valvole delle... come si dice... le conchiglie. E tutto era improntato a una ritualità spontanea, non affettata, non... non forzata. Parlavamo della barca di Ra è dell'uovo d'Assagioli. E l'uovo d'Assagioli è la barca di Ra. Quando noi abbiamo scoperto questa struttura ideale, simbolica, il famoso uovo di Assagioli, che poi proviene dalla tradizione di Ellis Bailey, che era una medium che andava in transe e scriveva sotto dettatura di un maestro tibetano. Queste sono tutte curiosità, così, ma in realtà questa figura dell'uomo viene appunto da una ispirazione, da una meditazione compiuta da questa donna. e che poi dopo, attraverso uno studio approfondito della struttura della personalità fatta da Sigmund Freud, poi da Jung, da Fromm, eccetera, ma poi la struttura, diciamo, triunitaria, questa barca, che poi è la barca di Ra, fu indicata sia a Freud che a Jung da Grodek, che era uno studioso tedesco sulla struttura del sé e dell'ess, del sé transpersonale. Noi questo discorso nello studio dell'antico Egitto ci dà la possibilità di capire come allora, 3.500 anni fa, anche 4.000 anche, anche, riuscirono a rappresentare questo status mentale, fisico, animico e spirituale triunitario di questa creatura che è l'uomo. Non ha avuto mai il tramonto, in 3.000, 3.500 anni è una civiltà che non ha cambiato mai la scrittura. Piero Grifici, sempre quelli. La rappresentazione teologica, strutturale, è stata sempre quella. Forse è cambiata con il tempo, perché lo strappo che è compiuto da Menofis IV, detto poi a Kenaton, con questo suo voler abolire le divinità a tutti i costi, ma è un po' il Lutero dell'epoca, perché in realtà i sacerdoti di Amorra, quelli che avevano il compito di prendere la decima, metterla da parte, voi sapete che in Egitto il grano conservato in luoghi asciutti e conservato in luoghi particolarmente curati, serviva per le carestie, perché le inondazioni, che erano quelle che portavano poi dopo la fertilità a queste valli del Lungonilo, erano sicuramente qualche volta incerte, perché non pioveva, l'alluvione era scarsa e quindi loro dovevano conservare questi beni materiali a favore di tutti. Però qualche volta se ne approfittavano, rimendevano anche ai popoli stranieri, come l'affare degli Ixos, che sono stati praticamente i berberi, le popolazioni berbere da allora, che non avevano niente da fare, perché vivevano nel deserto e loro dovevano per mangiare o rubare o rubare. I berberi non lavorano la terra, perché proprio non c'è niente da lavorare nel deserto, quindi se ne andavano a pigliare dagli egizi. E tanto è vero che hanno governato per circa 300 anni. Però dopo gli egizi se lo sono ripreso il potere e quindi in qualche maniera, attraverso Ashepsut e Tutmosi III, riuscirono a liberarsi da quest'incubo. Però vedete che anche in questo andare ciclico, come una curva di caos, del più, il meno, il più, il meno, ci deve essere, perché è anche scritto in natura, nella genetica, ci deve essere un ricambio e un necessario momento di strappo con una situazione equilibrata, consolidata, per poter poi evolvere. È così, è l'assurdo, ma è così. La famosa sofferenza, l'attraversamento della duat non è facile, perché nel momento in cui tutte le cellule decidono che il tratto è finito, il mio doppio, cioè la mia quantità energetica autocosciente e quindi autodeterminante va verso un orizzonte che noi non sappiamo com'è, ma che è un orizzonte ben strutturato, visibile, perché dopo la pesata dell'anima avveniva l'ammissione di fronte a Osiride, che era il giudice assoluto, che poi era un ipostasi della divinità che riguardava legge, rigore e verità. si superava questo stato e ci si consentiva di salire sulla barca di Ra e andare verso l'unità, verso questa unità esistenziale che riabbraccia tutti e riprendere tutti. Ma c'era però, ecco, e qui ci divertiremo in futuro, tutta una serie di figure energetiche, perché nel momento in cui il trapassato passava la duat, c'era la necessità di abbattere questo doppio psichico, c'era la necessità di abbattere il basso psichico, perché è sostanza, perché è energia. Tutto quello che voi pensate non è una cosa così sfuggente o fugevole, rimane scritto, rimane scritto, gli orientali dicono nel libro della Cascia, e questo rimanere scritto, laddove è scritto male, e dove si sono scritte delle bestialità, rimane. E si rifà nei confronti di chi l'ha scritto. Cioè la cattiva parola ricade su chi l'ha detta. E lì ci sono i giudici che dicono, no, tu hai detto questo, questo, questo e questo. Ma non perché loro controllano, perché è scritto dentro di me. È dentro, è scritto dentro. La propria vita viene registrata in una specie di USB, ecco questi attrezzini che noi abbiamo, queste memorie, che sono incancellabili. E dopo la morte vanno distrutte. Va o digerite o distrutte. E questi personaggi che voi vedete sulla barca di Ra, poi la prossima volta la vedremo, che sono questi serpenti che sono così, che circondano la figura del trapassato, e addirittura sono quei serpenti con quattro o nove teste, che sono gli agenti digerenti di queste memorie che sono inutili al trapassato per poi rivestire ulteriormente la propria unità biopsichica di materiale fisico. Non è possibile. Fino a che questa consumazione non c'è, non si può ritornare di qua. Tanto è vero, gli egizi avevano dei rituali di purificazione degli organi e messi poi dentro i vasi canopi, ma anche dello stesso corpo fisico, che veniva bendato, fasciato con gli amuleti, veniva poi accompagnato, veniva poi nutrito con alimenti apparentemente vivi perché portavano alle mastabe, perché, ecco, è un'altra cosa che va detta, le piramidi non erano tombe. E tanto è vero, non è che ce ne sono tante. Nel deserto, più di 80-90, ma a Saccara, che io vi consiglio di andare a vedere, ci sono le cappelle funerarie fatte di mattoni di fango e paia e ornate da una costruzione lapidea che poi ogni mastaba ha la famosa falsa porta. Quello che dicevamo ieri, qualcuno ha fatto, ti ricordi, Rinaldo, il passaggio della porta chiusa attraverso le pareti, no? Il muro. Eh sì, il muro. Il muro. Chi era che diceva che guardava il muro? Io. Tu. Vincenzo Caldorelli. Ieri ci ha ancora raccontato un aneddoto veramente interessante. Ma questo scherzo l'ho fatto anch'io al tempio nostro, sì, di Perugia. Sì, questo è di Perugia, via, via... Corso Capurro. Eh? Corso Capurro. Corso Capurro. Mi hanno preso per matto, però, però, devo dire che hanno avuto tanta pazienza. Quando voi siete entrati nella nostra sede, avete visto che a un certo punto ci sono delle scale che scendono e sopra c'è una passarella, no? Che cammina, va avanti e trova un muro. Poi gira d'angolo retto, trovate un altro bel muro. E allora io ho detto, ma quello è il muro dell'Oriente Eterno. Non ho finito i lavori perché non me l'hanno fatti finire, ma lì c'andava una falsa porta. e nel Medioevo le facevano queste false porte perché c'era di fronte, vicino alla porta della chiesa ordinaria, avete visto che c'era una finestra? La porta del morto. La famosa porta del morto, che era sempre chiusa. Era la porta dalla quale il K, il doppio, doveva uscire. Quindi queste tradizioni ce le abbiamo avute anche noi, però loro non sono stati così bravi e voi quando andate a Saqqara e andate a vedere queste tombe sono eccezionali, istoriate, con scene che riguardano l'attraversamento della Duat. però volevo fare un'ultima riflessione e poi lascio la possibilità di fare domande. Su questa confessione negativa, guardate che è una bella presa in giro, cioè il morente o il morto o il trapassato, non è che diceva oh Dio mio, io ho fatto questo, ho fatto questo e ho fatto questo. No. Cioè io non ho rubato, io ho rubato e quindi io ho pure fatto violenza. No, il contrario. Il contrario. La famosa confessione negativa alla Dea Mat. La Dea Mat che era una rappresentazione di una donna posta in posizione di riposo, di meditazione, con le ali allargate una cintura sulla fronte e una penna. Una penna. Che era la penna che rappresentava che Thoth aveva per scrivere la verità? Quella ce l'aveva sulla testa, Thoth in mano. E stava di fronte al defunto nel momento in cui uscendo dalla fisicità doveva fare la confessione cosiddetta negativa. E sulla bilancia che doveva misurare gli effetti del suo dire se era vero o no, c'era la penna della Dea Mat che se la toglieva la metteva sul piatto della bilancia. E dalla parte di là il cuore del trapassato. la penna di struzzo. Esatto. E se questo c'era uno sbilanciamento e se il cuore si abbassava e la penna andava verso l'alto c'era Ammit che è pronto lì che non vedeva l'ora di sgranocchiarsi questa anima pronta a essere sgranocchiata perché non aveva ottemperato alle regole che sul piano quaternario gestiscono la vita sociale degli umani. se volete la possiamo rivedere questa confessione negativa non l'ho messa sì sì ma io ce l'ho qua non l'avevo portata che è tutto sommato un po' paradossale però però secondo me è molto interessante non la ritrovo questa ecco è la questa questa è la figura questa è la figura della posizione orante di chi deve ottemperare al allora io ce l'avevo qua dove l'ho messa ma ora la ritrovo intanto però da quello che abbiamo detto se tu vuoi aggiungere qualcosa ma Enrico è anche tu ma prima di tutto ricordare a tutti che il paganesimo è ancora duro a morire siccome avevamo cominciato a parlare se tu vuole un'altra cosa è ritornando a ma fosse al vicoletto del Cairo adesso che tra poco è anche luglio io mi ricordo che un tempo adesso si va al supermercato eccetera anche lì in alcuni in alcune per alcune strade d'Italia ci sono cataste di cocomeri e e ci sono questi che vendono i cocomeri per strade e mi ricordo che per conoscere e giudicare la qualità di un cocomero si faceva un tassello ecco il vicoletto del Cairo è un poco il tassello che ci fa vedere un poco la qualità del mondo ecco questo qua volevo dire poi naturalmente il premio Nobel nel premio Nobel diceva ma fu stesso che era la lingua araba che aveva vinto ma la posizione siccome io purtroppo ho 88 anni quindi oddio non dialogo ancora con la morte ma insomma uno di questi giorni la dovrò fare e rimanda c'è un poeta c'è un poeta grande poeta fratello anche lui della Golden Dawn però non quella fascista di oggi e William Butler Yeats che nella sua poesia Sailing to Byzantium della quale una volta si può anche fare un discorso molto importante molto interessante il quale parla del vecchio e dice fangosa un vecchio cappotto tutto buccherellato appoggiato su un bastone ma se l'anima canta e canta forte per ogni buco nella sua veste mortale allora non c'è scuola di canto che possa insegnare questo modo di accostarsi alla vita e al rapporto del cielo con la terra ma questa è una cosa ecco no perché si chiedeva che cosa può desiderare un vecchio insomma può desiderare questo di cantare di avere un'anima che canta ecco questa è una cosa piuttosto importante e poi questo fatto che si considera che la morte avviene quando la centralina elettrica si spenge qualcuno che gira l'interruttore ecco è che noi non dobbiamo dobbiamo smetterla di considerare il cervello come centrale di tutto come si fa oggi perché è la mente che muore muore la mente perché la nostra mente e lo dice anche Ovidio in alcuni versi bellissimi che non sto a recitare adesso ma la nostra mente sono le mani i piedi il nostro corpo gli occhi gli orecchi tutto quello che ci permette di sentire quello che ci circonda ciò che ci circonda perché l'uomo è capace con questi con questi mezzi con questi strumenti è capace di abbracciare l'universo è una cosa è un miracolo questo è un miracolo che avviene ne parla Lucrezio ne parla Ovidio ecco quindi muore la mente muore la mente allora è la vera morte cioè è il vero passaggio ad altra vita ecco basta questo volevo dire è il desiderio di vita quello non si spinge mai è questo che ci farà soffrire quando sarà l'ultimo momento e ci gireranno abbastanza le scatole raggiungere un'ulteriore riflessione che questo passaggio cosiddetto passaggio della morte avviene in questo universo e in questa dimensione in una realtà più ampia di universi paralleli infiniti addirittura come la scienza oggi e la fisica in particolare ci insegna la scomparsa da questo universo parallelo può essere la morte la fine di tutto non lo sappiamo francamente non lo sappiamo ma è poco credibile scomparire dall'universo per ricomparire o sopravvivere o continuare una dimensione di vita chiamiamola così tra virgolette sempre in un altro universo parallelo è possibile probabile e secondo me credibile ecco allora che quello che è stato definito come mondo dell'aldilà può essere ridefinito oggi come un altro universo e il passaggio dal mondo terreno al mondo dell'aldilà è una porta del tempo che si apre e che ci permette l'accesso a una dimensione che noi non riusciamo a conoscere e a percepire in questo universo ma che comprenderemo nell'altro la questione fondamentale di tutto questo però è se noi riusciremo a mantenere la nostra identità perché quello che turba un pochino tutti di fronte a questo passaggio ultraterreno oramai di cui siamo più o meno tutti convinti almeno quelli che sono qui è se poi si manterrà la propria identità non ha alcuna rilevanza non ha alcuna importanza la ricostituzione di uno spirito la ricostituzione di un anima mondi di un uno tutto che tutto ingloba e tutto assimila non ha bisogno dei particolarismi tipici e specifici del mondo della carne su sollecitazione del gran maestro vi voglio leggere la dichiarazione negativa che è la dichiarazione negativa che si fa che si dovrebbe fare in punta di morte prendo gli occhiari dimenticati e comincia così non ho detto il falso non ho commesso razzie non ho rubato non ho ucciso uomini non ho commesso slealtà non ho sottratto le offerte al dio non ho detto bugie non ho sottratto cibo non ho disonorato la mia reputazione non ho commesso trasgressioni non ho ucciso tori sacri non ho commesso spergiuro non ho rubato il pane non ho origliato non ho parlato male di altri non ho litigato se non per cose giuste non ho avuto comportamenti riprovevoli non ho spaventato nessuno non ho ceduto all'ira non sono stato sordo alle parole di verità ma non ho recato non ho recato disturbo non ho compiuto inganni non ho avuto una condotta cattiva non sono stato negligente non sono stato litigioso non sono stato esageratamente attivo non sono stato impaziente non ho commesso affronti contro l'immagine di un dio non ho mancato alla mia parola non ho commesso cose malvagie non ho avuto visioni di demoni non ho congiurato contro il re non ho proceduto a stento nell'acqua non ho alzato la voce non ho ingiurato Dio ingiuriato Dio non ho avuto dei privilegi a mio vantaggio non sono ricco se non grazie a ciò che mi appartiene non ho bestemmiato il nome del Dio della città ecco questa è la dichiarazione negativa che poi dovremmo fare tutti in punta di morte ma ci sono degli impegni ma si potrebbe fare impegni molto forti in stato di sì 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 io credo che ogni tanto farebbe bene Diana Letta per vedere se ma che poi scusate è quello che faceva Pitagora di fronte alla famosa Ypsilon Pitagorica che consigliava di la sera prima di dormire di fare a ritroso una specie di memorizzazione di quello che ha fatto se lo si fa a ritroso vedete che è molto più facile non vi dimenticate di nulla però vedete anche i momenti critici che vi siete comportati in maniera non gradevole a voi stessi ecco e Pitagora sosteneva beh visualizzate una bella Ypsilon se il ramo di destra è più alto della sinistra vuol dire che è andata bene se è la pari va così e così se invece va più su il braccio di sinistra vuol dire che la cosa non è tanto piacevole e addirittura vedeva l'angelo che saliva con la parte destra e l'angelo che discendeva esatto poi concludiamo con due brani poetici che ci leggerà Marrico grazie a tutti Grazie a tutti.